Non so se mi ricordo ancora come si fanno i video, un certo che sono negli occhi da proprio fastidio, mi sa che mi sposto. Eh sì decisamente meglio eh, sì perché di là non ci stavo dentro, com'è l'inquadratura? Bama, ci sta l'inquadratura, coglione sono sempre coglione, non è che mi segnalate il video adesso che ho detto coglione, non dico più eh, si cambia raga, si cresce, io mi sento ancora un ragazzino però, adesso c'è sta paura di questo virus, speriamo che non ci contaggino tutti sennò, sai che casino, mamma mia, non è che arriva qualcuno che si chiede ancora il senso dei video di camper job, non hanno senso i video, eh, ce l'hanno per me nel momento in cui li faccio, faccio video senza senso perché sono bruciato, guardarsi, voi perché guardate un bruciato? Perché vi divertite a guardarlo? e dai, è bello anche così, poi bruciato, non è vero che sono bruciato, in qualche stione, dai, no, ogni tanto fare un buon cambio di inquadratura giova, giova il video, vedete che pace che c'è qua, c'è un elemento di disturbo nel bosco, ecco che se ne va, forse, ecco, è andato via, possiamo continuare il nostro blog, o vlog, non lo so, o blog, o vlog, si capisce uguale, chi se ne frega. è andato via l'amico, meno male, io volevo farmi i fatti miei, ho detto, boh, non ci sarà nessuno nel bosco, ho avuto un problema di nervi, pensate ragazzi, un colpo della strega, succede, mi è capitato a vent'anni, è a 45, adesso ne ho 45, oh, non tingo i capelli, eh, mi hanno detto, oh, ma ti tingi i capelli, guarda, non ho mai messo un orecchino, mai fatto un tatuaggio e non mi tingo i capelli, vi dicevo, il colpo della strega è fatto male, mi sono piegato, un dolore, ma non vi potete immaginare, e mi ha preso la gamba sinistra, è andato avanti quasi due mesi, mamma mia, brutta roba, brutta roba, brutta roba, brutta roba, grazie per l'attenzione ragazzi, vi do un bacio e alla prossima, al prossimo video senza senso, vi farò, ciao ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!